Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con le previsioni di TV6. L'anticiclone nord-africano è ancora protagonista all'interno del Mediterraneo, lo sarà ancora per altri sette giorni. Le perturbazioni atlantiche resteranno ben lontane dallo stivale. Per quanto riguarda questo venerdì, una giornata serena praticamente ovunque, eccetto qualche rapido equazione sulle Alpi orientali, ma davvero di poco conto, le temperature aumenteranno ovunque, soprattutto al nord, fino a 39 gradi. In Abruzzo una giornata stabile, dominata dal sole, qualche addensamento possibile nelle aree interne, per lo più in montagna, ma non ci aspettiamo dei fenomeni annessi. Temperature in ulteriore lieve aumento, soprattutto nelle massime, valori tra i 32 e i 34 gradi, minime anch'esse in aumento tra i 19 e i 25 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.